Questo dovrebbe farmi meritognare. Passiamo all'interrogazione numero 3, 804. E ora la volta dell'interrogazione firmata dal gruppo parlamentare del Partito Democratico, sempre rivolta a Maurizio Sacconi, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla vigilanza da parte del suo Ministero, con particolare riferimento alla Regione Calabria, la vigilanza sulle politiche sociali e del lavoro. Grazie. I fatti di Rosarno in Calabria sono certamente legati alla massiccia presenza di lavoro nero, in particolare nel comparto agricolo. Lavoro svolto in condizioni disumane, soggetto al controllo dell'Andrangheta, gestito totalmente dai caporali, nell'indifferenza generale, nella profonda sottovalutazione degli uffici dello Stato. In materia di lotta a solmesso, di legalità diffuse, il Governo parla spesso di tolleranza zero, ma nel documento di programmazione dell'attività di vigilanza per il 2009 è stato ridotto del 17% il numero dell'aziente soggetto a controllo e addirittura del 46% in Calabria. Ci aspettavamo maggiori controlli, ne sono stati fatti molto di meno. Ma solo una seria politica di lotta al lavoro nero e all'irregolarità può evitare che accadano altri fatti drammatici come quelli di Rosarno. Chiediamo quindi al Governo come intende agire, affinché ci sia maggiore presenza dello Stato in Calabria, a tutela della legalità del lavoro. Più legalità e più lavoro, più tutela delle imprese sane, maggiore lotta all'illegalità diffusa, per consentire l'affermazione di un'economia sana, che esiste, che produce con trasparenza e non rispetto delle leggi. Legalità e lavoro, legalità e lavoro, lotta al sommerso, è quello che chiede la Calabria Onesta. Grazie, signor Ministro. Grazie a lei, Ministro del Lavoro delle Politiche Sociali, Maurizio Sacconi, ha facoltà di rispondere. Io sono innanzitutto sconcertato perché l'interrogante dimostra di non avere letto la direttiva che è stata data ai servizi ispettivi dall'inizio di questa legislatura. La direttiva dice ai servizi ispettivi dovete concentrare tutta la vostra attività sulle violazioni sostanziali a partire da quelle che sono correlate con un rapporto di lavoro totalmente irregolare. Andate a cercare gli elefanti e non andate invece a limare le unghie alle zanzare, come troppo spesso l'attività ispettiva ha fatto. Abbiamo detto, cioè concentrate, concentrate anche le aziende nelle quali andate, alle quali vi rivolgete attraverso un'attività di intelligence, cioè un'attività di selezione preventiva degli obiettivi in modo da colpire le violazioni gravi e gli stessi ispettori sono valutati in base proprio a questo criterio di violazioni sostanziali gravi accertate, cioè il sommerso in primo luogo, piuttosto che di violazioni formali minime che venivano invece prima confuse in un unico calderone nel momento della valutazione dell'attività ispettiva. A proposito della Calabria, la deduzione è stata delle attività ispettive del 17%, non del 46%, perché a fronte delle 11.304 aziende sottoposte nel 2008 sono state 9.354 nel 2009, a casa mia fa il 17%, come avevamo detto in generale, per concentrare l'obiettivo là dove c'è la violazione patente. Cosa succede in Calabria in molta parte del mezzogiorno? Una combinazione paradossale di due fenomeni. Da un lato molti lavoratori italiani falsamente iscritti come lavoratori, i falsi braccianti, di false cooperative senza terra, con poi esercizio anche di mediazione abusiva, di caporalato, eccetera. E dall'altro l'uso di immigrati, non sempre clandestini, anzi molto spesso non clandestini, in attività assolutamente sregolate e sommerse. Noi abbiamo fatto attività ordinarie e straordinarie di vigilanza. Stiamo partendo con un'operazione vasta su Campania, Calabria, Sicilia e Puglia all'insegna della tolleranza zero verso tutti i fenomeni di irregolarità totale. Non ci sono alibi per i datori di lavoro. La forza lavoro è disponibile. Si pensi che nel sportello unico di Reggio Calabria sono disponibili 60 posti nei flussi stagionali in ingresso, quindi non c'è stata carenza di quota di flussi stagionali che potesse virgolettissime giustificare il ricorso a clandestinità. E come è noto in queste terre c'è una grande disponibilità di manodopera disoccupata a cui dovrebbero essere offerte opportunità anche nell'ambito dell'agricoltura perché lavorare è sempre meglio che non lavorare. Allora noi contrasteremo ancora di più ovviamente e guardate che purtroppo le Rosarno sono più di una in questo momento io avrei dovuto essere a Caserta se non avessi avuto questo principale dovere parlamentare di rispondere con il collega Maroni. Ci sono i miei ispettori perché Castelvolturno è un altro obiettivo altri ancora ne stiamo individuando secondo una linea, ripeto, di sradicamento anche attraverso i buoni prepagati. Quella soluzione agevole, conveniente per chi percepisce il reddito e per il datore di lavoro che possono essere ancor più diffusi nelle raccolte brevi in agricoltura se riusciamo a realizzare dalla proposta che ho fatto questa mattina al congresso della Will dei lavoratori dell'agricoltura e dell'industria alimentare la rete degli enti bilaterali cioè di quegli enti prodotti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in modo da affiancare al controllo istituzionale il controllo sociale per far crescere un'agricoltura moderna e regolata. Grazie. Ministro, a facoltà di replicare, l'onorevole Lomoro. Prego. Ministro, ad essere sorpresi per la verità siamo noi e io devo dire immediatamente che la matematica dà gli stessi risultati dappertutto e lei è palesemente in errore anche per quanto riguarda la dichiarazione non solo dei principi ma anche delle cifre. Secondo i dati che sono quelli del Ministero del Lavoro e non quelli del gruppo del Partito Democratico per quanto riguarda le ispezioni in Calabria nell'anno 2008 si trattava di 17.268 ispezioni e nell'anno 2009 erano previste 9.200 ispezioni il che significa che la riduzione del 46,7% e non del 17,7% che è invece un dato che riguarda la vicina Basilicata. Non è lo spirito polemico che ci ha portato qui è un altro, lo spirito è costruttivo è capire come si corregge il tiro è capire se c'è stata una valutazione io penso personalmente che la sottovalutazione sia generale come si possa invece invertire la rotta. Quello che è successo a Rosarno come prima quello che è successo al servo turno ma io voglio parlare della Calabria e di Rosarno perché oggi di questo stiamo parlando interroga tutti interroga tutti soprattutto sul piano della tutela dei diritti lì abbiamo trovato centinaia e migliaia di lavoratori immigrati la gran parte dei quali secondo il suo collega del Ministro dell'Interno regolari, cioè con permesso di soggiorno e senza contratto vogliamo capire, vorremmo capire che direttive, che nuove direttive a quelli che dice i suoi ispettori in Calabria per aiutarli ad arrestare un fenomeno che non riguarda quattro imprese, dieci imprese ma riguarda una miriade di imprese perché migliaia di persone sono destinate dai caporali e dall'andrangheta come correttamente ha denunciato prima il collega Larratta a migliaia, a centinaia a coltivazione di centinaia di appezzamenti di terreni e non a decine a qualche decino di grosse imprese e allora si tratta di come correggere e siccome lei oggi risponde ci interessava di sapere non solo come si fa a correggere questa battaglia ma come si fa soprattutto a tutelare i diritti perché da là il suo collega che ha riguardato il problema sotto il profilo dell'ordine pubblico ha sgomberato, ha deportato centinaia di persone che ribadisco erano lì senza contratto e senza diritti ma muniti di un regolare permesso di soggiorno e questo lo dovrebbe riguardare anche come ministro per le politiche sociali